dunque prima o poi arriva la domanda diciamo da parte di tutti i miei corsisti dei corsi base che faccio di fotografia che fotocamera mi consigli di comprare per iniziare e lì normalmente la mia risposta è con questo sguardo circa vediamo perché allora perché la domanda è difficile o meglio la domanda non è difficile che fotocamera mi consiglia all'inizio di un percorso fotografico è una domanda abbastanza facile e anche abbastanza scontata se vogliamo è giù ed è giusto che qualcuno la proponga è difficile la risposta perché ci sono talmente tante possibili risposte dovute alle varie esigenze che può avere ogni utente diverso che è difficile azzeccare quella esatta per ogni singolo utente allora più che darvi una lista di modelli con cui è importante comodo iniziare perché va bene così voglio darvi più una panoramica di quello che esiste attualmente sul mercato e probabilmente esisterà ancora per un po' quindi questo video avrà una validità abbastanza ampia proprio perché non scendiamo nello specifico di particolari modelli dicevo un'idea su quello che esiste e su cosa diciamo su quali sono le due principali strade che vi devono guidare alla scelta di un sistema fotografico all'inizio del vostro percorso ma anche alla fine alla fine insomma insomma magari alla fine no poto dire così magari quando vi siete un pochino più avete preso un pochino più di confidenza con la disciplina e quindi le vostre esigenze di conseguenza cambieranno allora una grande distinzione che tendo a fare io dei sistemi fotografici esistenti qui parlo in particolare di sistemi digitali perché io attualmente faccio corsi di base sui sistemi digitali sulle fotografie digitale una grossa diciamo separazione delle diciamo delle cose che esistono dei modelli esistenti è dovuta alla dimensione del sensore è un fattore cruciale per la scelta di un sistema fotografico perché già tendenzialmente si suddividono sistemi iper professionali e quindi costosi in sistemi diciamo amatoriali avanzati a sistemi si va a sistemi invece un po' meno avanzati un po' meno costosi di conseguenza fino a sistemi un pochino più compatti e adatti magari a scopi leggermente diversi da quelli amatoriali avanzati e professionali allora quali sono le dimensioni dei sensori disponibili attualmente sul mercato partiamo da quello che escluderemo non dico a priori ma quasi visto i costi e l'impegno nell'utilizzo che sono i sensori quelli di cosiddetto medio formato sono diciamo per le fotocamere più classiche sensori più grandi possibili disponibili allora sono sistemi costosissimi corpi macchina partono da almeno 8 9 mila euro l'uno più bisogna metterci i lenti e tutto quanto eccetera quindi tenderei ad escluderli i sensori diciamo di grande taglia a parte questo che abbiamo appena detto si suddividono in sensori cosiddetti full frame sensori aps e sensori micro 4 terzi allora il full frame che ha una ragione storica per cui è chiamato così se volete approfondire questa cosa chiedetemelo nei commenti e pubblicherò un altro video che vi spiega il perché è il sensore che ha la dimensione classica all'incirca del famoso fotogramma pellicola della pellicola più diffusa del tempo passato della pellicola ma anche attuale che quella cosiddetta 135 35 millimetri quella con i forellini è avvolta nel classico rullino che diciamo ripeto era il formato un pochino più diffuso quindi più o meno le dimensioni del sensore sono 24 per 36 poi ci scende un pochino ci sono i formati aps sono un pochino più piccoli dei formati full frame fino ad arrivare al formato tra quelli considerati grandi diciamo così ancora più piccolo che è quello del micro 4 terzi allora non tutte le marche hanno a disposizione il sensore micro 4 terzi l'hanno creato introdotto sul mercato un po di anni fa panasonic e olympus con un consorzio diciamo così ok tutti quelli che stanno sotto sono i sensori che normalmente attenzione perché non si tratta tutto quello che sto dicendo non si tratta di una cosa scritta nel marmo immutabile sono praticamente le consuetudini più comuni più frequenti ma possono esserci delle sovrapposizioni delle due cose che vi sto per dire dicevo normalmente i sensori più piccoli della taglia quello che abbiamo chiamato micro 4 terzi sono messi nei cosiddetti sistemi compatti che possiamo ricordare diciamo a cui appartengono le cosiddette compatte i telefoni i smartphone e anche alcune di quelle fotocamere che hanno un mega obiettivone integrato che non si può staccare cosiddette ultra zoom oppure bridge di impegno ci sono vari nomi con cui chiamarle ok diciamo questa è la prima grossa separazione che vi deve portare ad una scelta allora in che cosa comporta questo altrettanto normalmente è consuetudine per i sistemi a sensore grande avere delle fotocamere obiettivi intercambiabili ok ripeto non è la regola al cento per cento valida perché ci sono anche compatte con sensori grandi e obiettivi non intercambiabili però la consuetudine quella diciamo che vi orientate verso un sensore grande praticamente vi state orientando verso un sistema lente intercambiabili che ha ovviamente vantaggi e vantaggi quindi questa che è la prima distinzione che dovete fare secondo me allora obiettivi intercambiabili cosa vogliono dire vuol dire che nella vostra corpo macchina qui è un corpo macchina pellicola ma il discorso è lo stesso vale per i sistemi digitali non cambia niente solo che le macchine di una volta sono più belle e quindi vi faccio vedere questa gli obiettivi si possono separare dal corpo e si possono ovviamente riattaccare ok e ce ne sono di vari tipi che cosa diciamo cambia nella scelta dei vari tipi di obiettivi tendenzialmente la focale che ci montano sopra che come prima cosa immediata quella che si vede subito i focali che inquadrano più campo quindi da un grande angolo di campo a focali detto i teleobiettivi grandangolari quelli di prima teleobiettivi che inquadrano una porzione di campo più ristretta diciamo quella prima distinzione pratica che si può fare nelle focali quindi avere un sistema lenti intercambiabili comporta il fatto che vi prendete un corpo macchina vi prendete un primo obiettivo potete come dire a seconda delle esigenze adattare il vostro sistema fotografico alle varie situazioni ok grandangoli per riprendere certe cose teleobiettivi per altre focali intermedie per altre ancora e via dicendo ok e quando diciamo iniziate al percorso con una casa fotografica canon nikon che le più famose diciamo citato quello che succede che poi cambiate corpo macchina normalmente perché poi l'evoluzione tecnica spesso combina un po di scherzetti però cambiate corpo macchina gli obiettivi vi rimangono prendete un corpo macchina migliore diciamo più avanzato gli obiettivi sono sempre quelli ok a grandi linee ripeto allora se vogliamo entrare un pochino più nel dettaglio di questo discorso e diciamo dobbiamo dire una cosa subito non tutti gli obiettivi di una particolare marca montano su tutti si montano si possono montare su tutti i corpi di quella particolare marca ora può sembrare una cosa strana ma in realtà il motivo è semplice diciamo così andiamo a parlare un pochino di marchi canon nikon sony tra le altre diciamo così non dovrei dimenticarne qualcuna hanno a disposizione attualmente parlo solo ormai di sistemi mirrorless perché le reflex credo che fa un po smetteranno di farle però il concetto andrebbe bene anche per le reflex hanno due di solito sensori possibili montati sulle fotocamere quello cosiddetto full frame che ho detto prima il più grosso diciamo di quelli pochino più diffusi ripeto il meglio formato non lo consideriamo il sensore aps allora le lenti che vanno sul sensore grande il full frame si possono montare normalmente anche sui sensori più piccoli sui corpi macchina col sensore più piccolo questo perché l'obiettivo destinato a proiettare l'immagine sul sensore grande se proietta l'immagine sul sensore piccolo non viene diciamo così non vengono cose nere ecco non vengono bordi neri il viceversa non è possibile e non avere neanche senso una lente progettata per proiettare un'immagine sul sensore piccolo ha giusto il cerchio che si chiama cerchio di copertura adatto per coprire il rettangolino del sensore piccolo se fate proiettare l'immagine sul sensore grande verranno dei bordi neri nel fotogramma il viceversa non accade naturalmente questo ha una controparte il fatto che gli obiettivi che possono essere montati su sensori grandi possono andare su sensori piccoli ma la loro immagine viene proiettata viene ritagliata perché anziché essere raccolta dal sensore più grande viene raccolta dal sensore piccolo esattamente come se vi metteste dei paraocchi ok queste sono le due grandi distinzioni questi tipi di modelli ci sono sia per canon sia per nikon sia per sony direi se non ricordo male sono sicuro di canon e nikon un po meno di sony perché non lo seguo tantissimo perché non ho come dire non ho interesse in quel sistema fotografico però non perché sia scarso cioè per carità anzi cosa succede allora diciamo che vi comprate una fotocamera scegliete il formato che vi piace di più e quali sono le differenze tra i due formati allora in realtà qui sentirete guerre di religione su meglio il full frame quello più grande perché il sensore più grande è meglio è e va bene ci sono ovviamente dei motivi tecnici per sostenere questa tesi va detto però che le differenze a livello pratico per le fotografie diciamo di stampo amatoriale che si riscontrano tra sensori di grande taglia sensori di taglia sempre tra le grandi un pochino più piccola cioè full frame a ps non sono così eclatanti tenete conto per esempio di una cosa il primo la prima contestazione che vi dicono no col full frame si fa quel bel a tutto fuoco in primo piano quello sfocato sullo sfondo invece con l'aps no allora a parte che sono anche termini poco corretti dal punto di vista tecnico in realtà pensate che il cinema cinematografia viene realizzata quella diciamo a formato classico viene realizzato su una pellicola o un sensore che è simile all'aps quindi in realtà gli sfocatoni se vogliamo proprio chiamarli così che vedete nel cinema nelle serie tv eccetera si fanno anche tranquillamente con i sensori più piccoli ok quindi non state diventare amati sul discorso full frame c'è bello sfocato invece a ps micro 4 terzi no sono sensori sufficientemente grandi ci sono lenti obiettivi sufficientemente diciamo aperti dal punto di vista del diaframma è un discorso tecnico che ve la butto lì per qualcuno sarà chiaro cosa sto dicendo per qualcun altro no ovviamente non possiamo approfondire tutto in questo video un pochino orientativo dicevo per i sensori più piccoli sono comunque lenti che hanno la possibilità diciamo di creare lo sfocato ok il cosiddetto sfocato quindi chiamiamola come va detto la poca profondità di campo questo è il termine più corretto ecco quindi non è tanto quello che sinceramente fa la differenza sono differenze che poi vengono fuori come quest'altra che sto per dirvi quando proprio vi mettete agli estremi dell'utilizzo di un sistema fotografico l'altro diciamo pregio dei sensori grandi rispetto ai sensori piccoli e questo da un certo punto di vista un pochino più importante è un po più di gamma dinamica di solito è un po più di basso rumore a cosiddetti alti iso i sensori grandi di solito per fatto che sono grandi a parità di megapixel hanno i recettori della luce e di iodi che fanno che catturano luce e formano poi l'immagine proprio grandi e quindi riescono a catturare la luce in maniera un pochino più efficiente e questo vi consente di avere delle dinamiche cioè delle separazioni tra i toni un po più scuri un po meno scuri fino a quelli intermedi per poi andare sui toni chiari ancora più chiari tutte visibili le sensore i sensori scusate le fotocamere voglio dire a bassa dinamica invece tagliano un pochino questa transizione tonale allora anche qui full frame aps o micro 4 terzi non hanno delle differenze abissali sempre che non portiate i sistemi ad un estremo di utilizzo che di solito ha relegato alla fotografia pressione professionale non che poi in una fotografia di più stampo più amatoriale non sia possibile mettersi in situazioni che richiederebbero alte prestazioni di una fotocamera ma in realtà il problema è diciamo relativamente importante perché sostanzialmente un foto amatore si deve portare a casa una foto diciamo per tenersi un ricordo per soddisfare la propria voglia di visione sul mondo ma non deve venderle a qualcuno queste fotografie quindi se non escono diciamo di tragico a livello di stipendio e di soldi per pagare le bollette non succede niente per fortuna ecco se qualcuno ovviamente dovesse decidere che per lui importante portare a casa tutte le foto possibili al massimo della qualità è benvenuto nei sistemi ultra professionali naturalmente dovrà sborsare la controparte economica corrispondente perché ovviamente in fotografia non vi regala assolutamente niente nessuno ok è quasi vero che in fotografia più si spende meglio è non è una regola proprio generalissima ma nei vari campi non è detto che sia così anzi a volte è quasi vero il contrario in fotografia tende a essere abbastanza vera questa cosa più spendete più la qualità è alta poi non dimentichiamoci che stavamo parlando anche dei sensori piccoli allora sensori piccoli effettivamente hanno il grande difetto di riuscire a creare poca profondità di campo che è un effetto fotografico che piace molto soprattutto nei ritratti o nelle foto ravvicinate degli oggetti le cosiddette macro in realtà anche questo dipende dall'utilizzo del dell'utente finale è il più grande difetto diciamo oltre alla poca dinamica un po' un po' il contrario quello che abbiamo detto prima ovviamente andiamo nei sensori più piccoli quindi ci sono i difetti che i sensori più grandi non hanno quindi poca possibilità di fare uno sfoccato piacevole una poca profondità di campo e poca possibilità di avere alte dinamiche e sensori con il rumore ad alti iso basso o contenuto il rumore è tutto con l'effetto di pallinatura rossa verde blu che si vede nelle foto quando vengono realizzate ad alti iso ecco il vantaggio però dei sensori piccoli è che le fotocamere di conseguenza sono piccole obiettivi piccoli proiezioni piccole fanno fotocamere piccole ok quindi alta portabilità e comodità d'uso in un certo senso va detto che se voi scegliete un sistema lenti intercambiabili quindi tendenzialmente col sensore grande la borsina che vi dovete portare dietro inizia a essere consistente poi dipende dalle tolleranze di qualcuno ovviamente vedrete gente anche che gira per far foto per divertimento con zaini pieni di roba ok dipende qual è il poi il vostro la vostra tolleranza a portarvi del carico dietro ecco dicevo in quel caso sono comode da portarsi dietro perché se si infine di solito un taschino una piccola borsetta la controparte da accettare è quella del compromesso della poc della molta profondità di campo dell'impossibilità di realizzare poca profondità di campo o quantomeno molta difficoltà e di una dinamica del sensore un rumorosità d'alti iso maggiore e una dinamica minore rispetto ai sensori grandi ok questa è la grande distinzione poi si può entrare un pochino più nel dettaglio dei sistemi parlando un pochino più delle marche come avevo già accennato per canon sony e nikon per esempio fuji che produce ottime fotocamere non ha la fascia full frame ha deciso di fare una fascia anche professionale con sensore aps leggermente più piccolo del full frame e di fare una fascia ultra mega professionale che è quella dedicata al grande formato ok poi c'è come avevo accennato il micro 4 terzi che è stato creato come consorzio da panasonic olympus un consorzio aperto tutti i produttori possono produrre aderendo alle direttive credo del consorzio non è che uno possa fare credo quello che voglia in generale però possono produrre lenti e corpi credo con questa dimensione del sensore molto utile ed è molto utilizzata anche nei video da parte di videomaker è un buon rapporto qualità prezzo buona buona resa e tante lenti disponibili ci sono anche produttori di videocamere proprio camcorder nel vero senso del termine cioè che fanno solo video che hanno adottato il sistema 4 terzi una per esempio la black magic design fa videocamere che utilizzano spesso il micro 4 terzi e possono montare tutte le lenti olympus panasonic ce ne sono veramente tante poi ci sono anche produttori terzi che ne fanno altre ancora quando entrate in un sistema a lenti intercambiabili vi si apre veramente un mondo in cui poi anche un pochino difficile orientarsi all'inizio però dopo tutto questo è il suo vantaggio diciamo come fasce invece cioè scusate fasce fotocamere che stanno un pochino nel mezzo possiamo citare quelle utilizzatissime adesso dai produttori di contenuti video social tipo youtube instagram eccetera eccetera sono compatte di solito obiettivo non intercambiabile perché non serve poi una grande escursione focale per questo tipo di contenuti che però hanno un sensore abbastanza grande se non ricordo male ci sono delle sony non mi ricordo il nostro nome del modello potete cercarlo delle sony forse delle panasonic non sono sicuro qualche canon a obiettivo intercambiabile è nato come camera da vlog proprio video log e forse anche qualche altra casa ma non mi ricordo sinceramente le principali direi che sono sony e canon la canon con la serie m è una serie interessante perché sono macchinette piccoline con gli obiettivi intercambiabili con buone funzioni video soprattutto le ultime che sono uscite attenzione che il sistema m non so se lo porteranno avanti forse sì per questo motivo probabilmente lo penseranno per questo tipo di mercato perché ha un sensore aps ma canon ha già fatto uscire l'ultima mirrorless della nuova serie rf con il sensore aps quindi si sovrappongono un pochino gli utilizzi in un certo senso gli obiettivi non si possono di solito intercambiare tra questi due sistemi se non ricordo male potrebbero esserci degli adattatori ma non credo che li abbiano fatti tra la serie m e la serie rf di canon per cui credo che potrebbe rimanere come fotocamera da vlog ovviamente fa anche nelle foto e anche di buona qualità però diciamo inizia essere un pochino in quella zona intermedia che non definisce bene un sistema fotografico completamente a obiettivi intercambiabili sensori giganti e completamente a obiettivi fissi e sensori piccoli ecco sony per esempio ha fatto uscire una recente fotocamera che vi dicevo prima non ricordo il nome che è adatta ai creatori di contenuti un ottimo microfono già integrato sensore abbastanza grande se non ricordo male adesso poi andrò a vedere le specifiche tecniche eventualmente farò un'aggiunta al video per una correzione queste sono un po fotocamera ibride ibride comodo da portarsi in giro ottime qualità se siete interessati anche a andare in giro oltre a fare qualche foto di interessante a fare pure qualche video interessante possono essere ottimi scelte a grandi linee sono queste le due grandi famiglie con questa intermedia su cui potete orientarvi per scegliere una fotocamera tenete conto che non c'è più una grande differenza di qualità tra fotocamere ultra professionali e fotocamere cosiddette entry level come vi dicevo prima iniziate a vedere queste differenze solamente quando portate i sistemi fotografici a degli estremi di utilizzo abbastanza importanti magari volete un autofocus ultra veloce ultra reattivo oppure volete delle gambe dinamiche estremamente ampie difficilissime da ottenere in digitale peraltro è perché lì ci vorrebbe la pellicola per correggere un po il tiro a meno di non spendere veramente tantissimi soldi e si parla di costi da appartamento e non sto esagerando e quindi dicevo non c'è una grandissima differenza non preoccupatevi di prendere una entry level di qualunque marca avere paura che di aver preso una ciofeca non ci sono più fondamentalmente ciofeche anche perché soprattutto sul corpo macchina nel momento in cui gli ha abbinato una lente buona e lì un pochino di soldini bisogna buttarle su il sistema diciamo rinasce in un certo senso fa molto più il sistema scusate nel sistema fotografico fa molto più in un certo senso la lente che non il sensore proprio perché ormai i sensori hanno una bontà qualitativa ottima cioè ripeto ancora non c'è da scandalizzarsi nell'utilizzo non sono inutilizzabili naturalmente anche qui ci sarà qualcuno che non sarà d'accordo su questa disamina però ripeto siamo stiamo parlando di sistemi per un utilizzo normale ok questo in generale un po una panoramica ripeto che non poteva essere esaustiva perché altrimenti un video già è durato abbastanza avrebbe sarebbe dovuto durare tre giorni non sarebbe probabilmente neanche bastato su quello che è disponibile attualmente e probabilmente continuerà a essere disponibile per tantissimo tempo le varie taglie di sensori grandi e obiettivi intercambiabili piccoli e obiettivi fissi e questa fascia intermedia di utilizzo che sono quelle fotocamere dedicate ai vlogger e ai creatori di contenuti video più che altro sul quale diciamo potete sulle quali potete orientarvi naturalmente se ci sono domande scrivetemi nei commenti così possiamo fare anche un video in cui posso leggere le domande rispondere a una una con un altro contenuto potrebbe essere interessante anche se c'è qualcosa che non è chiaro oppure ripeto se qualcuno ha qualche domanda in cui vuole approfondire la questione ben venga sono assolutamente a disposizione bene spero che il video vi sia piaciuto spero che vi dia una prima sgrossata per orientarvi in quelle che sono le vostre prime esigenze che vi porteranno magari a pensare ok per ora queste esigenze ma penso che ne avrò altre tante altre e allora diciamo ci orientiamo un sistema obiettivi intercambiabili no penso che le mie esigenze saranno quella di portarmi con una fotocamera piccola non troppo ingombrante per il resto da vita in modo che io ce l'abbia sempre in tasca senza avere dei grossi carichi dietro poco impegnativa da quel punto di vista lì c'è ci sono sistemi obiettivi fissi con anche escursione focale che potranno farvi togliere altre soddisfazioni ovviamente ok l'importante è ovviamente come dico sempre è che la miglior fotocamera diciamo che potete acquistare è quella che fondamentalmente vi portate sempre dietro ok perché una fotocamera pesante oppure che non vi soddisfa chiusa nel cassetto non fare foto ci vediamo al prossimo video ciao ciao